Qual è il problema per cui lei voleva fare questo gesto a cui dobbiamo trovare per forza un'altra soluzione? Io sono qui e l'ascolto e non ci sono problemi, adesso noi ne parliamo, le ho detto noi siamo qui tutti a disposizione, da quando lei ha fatto la telefonata siamo tutti qui a cercarla, quindi lei adesso mi dice dove sta e io le prometto che dobbiamo risolvere insieme questo problema, però lei mi deve dire dove sta, ok, non ti far prendere da nessun momento di sconforto, ti ho detto che ti sto mandando un collega che adesso si prenderà cura di te e ti aiuterà, le visti i miei colleghi? Sono arrivati, voglio parlare col collega io, pronto? No, lasciare un secondo, un secondo non lo devi perdere di vista, questo la vuole fare finita. Sempre agganciato, un monte a 500. Bene ricevuto, ma a meno mi aggiorni sul percorso, grazie. Utile 0-3, avanti, avanti, occhio che stanno cercando di sfondare. Che succede, San Ferdinando 1? Quando siamo stati attaccati? San Ferdinando 1? Monte San Ferdinando 1 è stata colpita e quindi presentano una ferita alla seconda. Bene, i manifestanti sono ancora tutti lì, dottore? Sono intorno ai 200, qualcosa in più. San Ferdinando 05, siamo su via Filippo P, Maria Briganti, San Giovanni Bosco, un gruppo di 5 e 6 su scooter, incappucciati e armati. Secondigliano 11, secondigliano, avanti 16. Scendolo 9 e 4, Filippo Maria Briganti, adesso a Saletti. Dai, vai. Scendolo di riceri e a terra in timorezza. Scendolo, ottimo lavoro, Alfa 05. Scendolo, abbiamo bloccato, scendolo. Ottimo Falco, vasto qui, distruzione, velocemente, forza, volante 6, volante Zara, volante 8. Allora, centro, la persona è stata bloccata, la San Carlo è a terra in sicurezza. Volante Zara, mettiamoci subito al rinfraccio, volante Zara, volante 8, Alfa 05. Quindi voi con una persona e un'arma, mi confermate, Filippo Maria Briganti? Allora, centro, confermo. Allora, noi siamo qua con un'altra persona fermata, la pistola recuperata. E' l'ottimo lavoro. Grazie.